Chi ne parla bene, chi ne parla male, ma come al solito del resto, no? Tutti però sono concordi su un fatto, è molto, 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 molto intelligente. Qui accanto a me c'è Giuliano Ferrara! Chi frequentava Giuliano Ferrara a 15 anni? Beh, frequentavo i ragazzi del villaggio, abitavo in un piccolo quartiere di Roma pieno di amici, era un'epoca turbolenta. I ragazzi volevano fare quello che fate voi, delle assemblee, ma a telecamere spente perché la televisione non era così importante e volevano comandare loro, che è un po' sempre l'aspirazione dei ragazzi. Parlavamo, chiacchieravamo, discutevamo, ci infervoravamo, eravamo qualche volta anche cattivi, mettevamo insieme quelli che si chiamano gli slogan, le parole d'ordine che emozionavano i nostri coetanei. Facevamo sciopero a scuola, pensavamo di sapere tutto, Fidel Castro, la crisi di Cuba, il comunismo, l'anticomunismo, Che Guevara, Mao Zedong, eccetera. Senta, ma quante cotte ha preso nella sua vita lei? Beh, insomma, cotte tante naturalmente. Diciamo, alcune felici, altre meno, insomma, cotte tante, come tutti poi. Il conto non l'ho tenuto. Tante però, eh. Tante. Tante, beh, meno male. Ma non una che se ne ricorda in particolare, una ragazza, soprattutto com'era? Beh, ti ho detto, la prima ti ho detto, questa di Ilaria, era bella, aveva i capelli biondi, lunghi, come nelle favole. Ma non è, non sarà mica la nostra Ilaria, no? No, non è la vostra Ilaria, la vostra Ilaria non era ancora nata, no, no, è un'altra Ilaria. Non sarebbe bene che tutti la pensassero allo stesso modo, è la diversità di opinioni che rende possibile le corse dei cavalli. Sì, non c'è dubbio, è vero. Giusto, no? È vero, molto carino. Lei cosa ne dice di questa cosa qui? Penso che è vero, che Mark Twain ha ragione, che la diversità delle opinioni rende possibile le corse. Adesso non so se dei cavalli, insomma, qualche volta con opinioni diverse a fare la corsa sono degli asini. E' contento di sé, questo è l'importante? No, contento di me no. No, no, quando uno è contento di sé vive troppo bene. Che voto si darebbe Giuliano Ferrara da 1 a 10? Un voto scolastico, eh? Non lo so, insomma, comunque sempre l'insufficienza. Ah, l'insufficienza? Sì, al di sotto del 6. Ah, è così umile lei? No, però mi sembra una regola giusta stare un po' in ansia per se stessi e avere sempre paura di sbagliare. Io le darei 8 e mezzo. Allora, per vivere bene bisogna, prima di tutto, non guardare troppo la televisione. E noi la facciamo, non la guardiamo. Quindi farla è la soluzione migliore perché facendola non la si guarda. Quindi fare la televisione e non guardarla troppo. Secondo, per vivere bene bisogna leggere tutte le mattine un paio di quotidiani. Lo so. Incontrarsi tutti i giorni. Io ne leggo uno, è già durissima. No, almeno un paio, almeno un paio. Perché in Italia bisogna sentire... Quali? Mi dica quali allora. Un paio di quotidiani. Ma due quotidiani per esempio per niente schierati, sopra le parti, l'indipendente e il giornale. L'indipendente e il giornale. Le ricorderò, va bene. Va bene. Carina, carina questa battuta. Poi bisogna incontrarsi tutti i giorni con il proprio fidanzato. Non trascurare mai gli affetti. Io invece devo confessarle che lei parla molto bene, molto chiaro. Noi abbiamo capito tutto, io capisco tutto quello che lei dice e mi credo non è poco. Non sono complimenti, è proprio me. Mi è piaciuto parlare con lei. Grazie di essere venuto. Ti ringrazio. Sono la salita sommata, ma spero di incontrarla ancora. Grazie, grazie. Grazie.